La mia autrice preferita è Caril Churchill, una donna del 1938 del settembre del 38 che ancora oggi quando scrive dei testi riesce a sorprendere sia per forma che per contenuto. Ragazzi di Vita di Pierpaolo Pasolini, La Serra di Harold Pinter che ritengo essere veramente un testo bellissimo. La mia parola preferita è forma. Lo spettacolo che mi ha segnato e uno degli spettacoli che mi ha segnato è sicuramente Infinita della Family Flots. Una parola che non utilizzerei mai nei miei testi invece è resilienza, una parola che è diventata insopportabile. Il primo enunciato inviterebbe ad essere eredità. I drammaturghi hanno una grande responsabilità secondo me che è quella dell'eredità. Ce l'hanno insegnato praticamente i classici che rappresentare un'eredità è qualcosa di impegnativo ma anche fondamentale soprattutto nella storia del teatro.